Sono un legatauro Ce la faranno i nostri eroi a sopravvivere A parte il fatto che le candeline la stanno svolazzando non si sa dove Le candele Avranno soffiato un po' troppo e allora si saranno spostate Le fiamme che stanno Invece di stare proprio giusto giusto sulle candeline Stanno un po' più lontane Salve a tutti ragazzi siamo con un'altra puntata di Fortnite Oggi siamo con questa bellissima skin Che questa ormai è diventata la mia preferita in assoluto C'è una che urla ma vabbè Problemi suoi Poi non so quando lo manderò a sto video Però ci sono le sfide ovviamente del secondo compleanno Che me ne mancano solo queste due Mi mancano ma sono delle sfide stupidissime Veramente stupide C'è questo qui che è troppo bello sto piccone Questo video come avete letto dal titolo Sarà proprio sul Caccia all'oggetto Sicuramente è nascondino Ok mi pare proprio che sono un nasconditore Avremo dei secondi per poterci nascondere Aspetta un attimo Oh mio dio ma sono al contrario No vabbè è troppo bello Sono un megasauro Sentite a me rimaniamo qui Per favore non sparate a me Siamo tre dinosauri Sparate agli altri No potevo capuffarmi Sapete in cosa? In una ciotola del cane Mi sarei potuto mettere dentro al Eccolo lì Eccolo lì Eccolo lì Vabbè ma non ho preso Non vivrò Ecco qui Vabbè sono arrivato in seconda posizione Ho sbaglio No questo si è trasformato in una bottiglia Geniale Poi si è messo in un posto Dove è difficilissimo trovarlo Secondo round sicuramente saremo Cioè sarò un cercatore Siamo i cercatori Buongiorno Io non voglio mettermi nei vostri pa Ma da dove si esce? Ma ho preso danno? Perché? Tutto ciò è molto strano No mi sono messo a balla pure io Vediamo dove potrebbero essere Magari qui in giro? Oh oh E uno è fatto Grandioso ragazzi Magari qualcuno si è nascosto qui Vabbè pure io sarò scimo eh Oh L'ho ucciso io Grandioso Sicuramente stanno dentro casa Beh se ti levi magari Aspettate magari la poperemo No però è difficilissimo Eh però io sono arrivato in prima posizione Sì ma non gli sprecate tutti adesso i colpi Quanto siete deficienti E ti credo non t'ho visto Vabbè Ehm Raga Purtroppo la facecam Se n'è andata ai pesci Oh veloce veloce Nascondiamoci Nascondiamoci In cosa? Non lo so Magari in un quadro? Potrei mettermi qui dietro? Non lo so veramente Io mi sono trasformato in un quadro Ma boh Volevo trasformarmi in qualcosa di più piccolo Io non provo con nessuno Perché non voglio rischiare Ma lo sapevo io Ma lo sapevo io Vabbè siamo già morti Fantastico Che bella partita eh Vabbè fino a ora non abbiamo vinto manca una partita Terza e ultima partita Se io mi trasformassi In una di quelle bottiglie Si Mettiti subito qui Potrebbero non scoprirmi Allora Non voglio Cantar vittoria subito Però potrebbe essere Un nascondino Decente Non vorrei dire Però No 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 vai vai via Madò che bello Per poco mi col Non lo fare Vattene Vattene Hai già controllato abbastanza Vattene Mi è venuto un colpo proprio Stava di Ecco è finita Questo sta sparando Poi con quelle frecce esplosive Colpisci chiunque Soprattutto le cose più piccole Eh Però anche con quelle Con le bombe ballerine Non è da meno Ma considerando che i nasconditori Sono più di uno Non è che sta solo quel brutto cefo Che è passato prima Anche Gli altri potrebbero controllare Una di queste bottiglie Ed è fantastico Siamo ancora a Due minuti e quaranta Bene Questa è l'ultima partita Se ci va bene Va bene E se no L'importante è divertirsi Io in questo caso Mi sto divertendo L'importante è che non beccano proprio Ma anche perché Puh Se ci pensate Questa modalità È arrivata da poco Quindi Come fanno I cercatori A sapere tutti i posti Tutti gli oggetti Come Realmente sono Cioè Capite È complicato Però Come sempre Non voglio cantare vittoria Troppo presto L'ho detto per l'ennesima volta A gioco Eh Vedi Sono serio Quaranta secondi Vediamo un po' Ce la faranno i nostri eroi A sopravvivere Aiuto Ho parecchia paura Se ve lo posso dire Siamo in due Nascosti Quindi Uno di questi due Sono io Oh mio di raga Non mi dite Quattro Tre Due Uno Raga ho vinto No vabbè Fantastico Fantastico Lo sapevo io che quella bottiglia Era miracolosa Vabbè Ora dobbiamo fare la parte Di nasconditori Se Vinciamo Se faccio parecchie uccisioni A meno tre Come nascondito Cioè Come cercatore Sarà Una cosa bellissima Oh Ne ho trovato uno No Non ti puoi sopravvivere così Quanto Oh Non moriva più Comunque stava scappando uno Prima ne avevo visto un altro Solo che mi è sfuggito Perché Stavo ammazzando quello Non pensavo potesse morire Ma però Non vi mettete a ballare Che così Perdete solo tempo Vittoria però Abbiamo vinto Quarta posizione Ma a chi se ne importa Vabbè L'ultima partita È andata molto meglio Sono riuscito a vincere Anche da nasconditore Purtroppo Sono morto Per colpa dell'arco Ma vabbè Comunque Come modalità È bellissima Non so se manderò Se Ci farò un altro video Magari Ad ogni modo Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Buonanotte Quello che è Buonanotte Nasconditore Cercatore Quello che Quello che siete Mio Mio